Ha interpretato un mago adolescente, un vampiro affascinante e ha recitato in innumerevoli produzioni indipendenti. La carriera cinematografica di Robert Pattinson è molto variegata. È anche una stella delle produzioni Netflix. Lo potete vedere in The King e Le strade del male, entrambi disponibili. Ma facciamo un passo indietro e scopriamo la strada che lo ha portato a Netflix. Torniamo nel 2004 e troviamo un giovane Pattinson nei suoi primissimi ruoli sullo schermo. Inclusa una parte secondaria in un film televisivo tedesco, sulla saga dei Nibelunghi. Credeteci o no, uno dei primi film di Pattinson non è mai riuscito ad arrivare al grande schermo. Ha recitatone La fiera delle vanità al fianco di Reese Witherspoon, nel ruolo di suo figlio. Le scene con Robert, però, furono tagliate e rese disponibili solo nella versione DVD. Ma dichiarò in seguito che il casting director del film si sentì così in colpa da dargli la precedenza nelle audizioni per un ruolo di una certa serie di film britannica sui maghi. Ebbene è così ragazzi, se le scene di Pattinson non fossero state eliminate dalla fiera delle vanità, probabilmente non lo avremo mai visto vestire i panni di Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco. L'affascinante mago partecipante al torneo Tre Maghi ha un ruolo fondamentale sia come rivale di Harry in Amore che come, purtroppo, prima vittima di Lord Voldemort. Il suo film successivo è stato un thriller psicologico che è stato trasmesso su BBC4 nel 2006. Robert era un tenente della RAF, paralizzato durante la Seconda Guerra Mondiale, e costretto a passare la degenza in uno spaventoso ospedale nella campagna gallese. Chiaramente le cose iniziano a scivolare di mano. Nel 2007 accetta un ruolo completamente differente nel manuale della cattiva madre. Nel film televisivo, Pattinson interpreta un geek con una cotta per una ragazza incinta. Il 2008 è stato l'anno della svolta per Pattinson. A prima interpretato un ventenne con una crisi di identità nel comedi-drama Come solo tu sei. E poi il ruolo dell'artista surrealista spagnolo Salvador Dalì in Little Ashes. Ma è stato il suo ultimo ruolo nel 2008 a renderlo una star di Hollywood nel giro di una notte. Esattamente. Il 2008 è stato l'anno che ha visto Pattinson interpretare il ruolo di Edward Cullen, al fianco di Kristen Stewart nei panni di Bella Swan in Twilight. La serie sui vampiri teenager, che ha avuto un successo senza precedenti. Questo ruolo ha ufficialmente consolidato il posto di Pattinson a Hollywood. Pattinson torna nel ruolo di Edward per quattro film, New Moon nel 2009, Eclipse nel 2010, Breaking Dawn parte 1 nel 2011 e parte 2 nel 2012. Tra un film di Twilight e l'altro, ha anche recitato in alcuni drammi romantici come Remember Me nel 2010, il cui finale è ormai diventato iconico. Nel 2011 torna a recitare al fianco di Reese Witherspoon, questa volta nel ruolo del suo amante, in Come l'acqua per gli elefanti. Nel 2012 Pattinson si stava già allontanando dalle grandi produzioni, per spostarsi invece sui film indipendenti, diretto da alcuni tra i nomi più importanti della scena. Ad esempio, ha lavorato due volte con David Cronenberg, la prima volta nel 2012 nei panni di uno spietato miliardario in Cosmopolis, e poi una seconda volta nel suo film satirico Maps to the Stars, nel ruolo di un driver di limousine e attore alle prime armi. Negli anni successivi continua ad attirare recensioni positive per le sue interpretazioni nelle produzioni indipendenti, e i suoi ruoli iniziano decisamente ad allontanarsi dal seducente vampiro di Twilight. Nel 2015 accetta il ruolo di Lawrence Darabia in Queen of the Desert. Nel 2016 è l'esploratore britannico Henry Costin in Civiltà perduta. E poi la sua performance del 2017 in Good Time, dove interpreta un rapinatore di una banca che cerca di liberare il suo fratello disabile da Rikers Island, dopo un colpo andato male. Tra l'altro lo trovate in catalogo su Netflix. Uno dei suoi ruoli più surreali arriva con High Life nel 2018, un thriller non lineare ambientato nello spazio, su una navicella piena di criminali, su cui vengono praticati gli esperimenti più disparati. Ah, e la navicella chiaramente si sta dirigendo verso un buco nero con un bambino alla guida. Un altro thriller psicologico è stato The Lighthouse di Robert Eggers, un film in bianco e nero girato principalmente in formato quadrato. Al fianco di Willem Dafoe, Pattinson recita nel ruolo del guardiano del faro, che perde del senno dopo essere naufragato su un'isola. Nello stesso anno, Pattinson sbarca su Netflix con The King, nel ruolo del degenerato re delfino di Francia, con delle battute davvero indimenticabili. No, i tuoi ruoli devono essere grandi, no? Le ruoli di ruoli. Le ruoli di ruoli di grande ruolo. Le ruoli di grande ruolo. E adesso siamo arrivati al 2020, anno che vede il ritorno di Pattinson alle grandi produzioni, come l'intricatissimo Tenet di Christopher Nolan. Nel frattempo è sul set nel ruolo di Batman, conoscita nelle sale programmata per il 2021. Ma il 2020 è anche l'anno in cui Pattinson torna su Netflix con Le strade del male, un adattamento del romanzo di Donald Ray Pollock. Il suo ruolo è quello di un prete diabolico e poco convenzionale. Nel film ci sono altri volti che potreste già aver visto da qualche parte. Per vostra fortuna lo trovate ora disponibile su Netflix. Non perdetevelo. Volete vedere altri video così? Iscrivetevi al canale! Grazie a tutti!